ci tacciamo tacciamo salvalo salvalo perché sennò va giù fa il bagno ragazzi purtroppo purtroppo è meglio salvarsi che bagnarsi grida forte è il classico odore delle nostre fogliette questo ci abbiamo noi ci siamo abituati è meglio salvata che non caduta dentro non è che siamo sempre dal cerri belli puliti belli in ordine esatto bravo bravissimo dagli una bella casata adesso questo era solo benessere no ma questo qua era la prima zona primo passaggio e poi cinque chilometri super strada aspetta che voglio vedere uno dei miei soci l'ha salvata un leone per fortuna no non perché l'hanno bruciata ho fatto no 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 tranquillo ti deve chiedere una cosa di un che gli serve ce l'ha uguale non riesci a trovarlo ho già detto te lo trovo io poi cazzo è quella che mi ha venduto il bianchi senza dirne lo e se non me l'ha mica detto eh alla mattina sono arrivati nella sua panola della mia e l'ho venduta come l'hai venduto ma sei scemo l'ho venduta che mica meglio questa è nuova si sono giunto bisogna alzare di più il bianco sai cos'è che bisogna fare che ognuno ne mette una di modo che farò differente perché se la fa tutte lo stesso io sono convinto che erano facili però hai una paura che si no ma va bene così eh si divertono tanto a zero non c'è arrivato nessuno però non mi son bagnato ma fanculo ti devo aiutare ti devo aiutare ma dove ti bagni eh però non mi son bagnato pensavo di far il bagno le nostre sono abituate va che tecnica il torrento l'ho fatto bene qui sono l'ultimo l'ho visto quando eri vinto 84 48 85 in piano si la puoi fare di fila se vuoi la puoi rifarla subito se non c'è qua nessuno ascolta tutti tutti in piano li ha messi come come a zero a zero a zero a zero vai di bestia no torna indietro non vale tornare indietro ma che così cadere il fiume via 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 vai 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 di bestia vai di bestia Scusami, questa va che c'ha tre marce, dovevi mettere la terza, la seconda. Vedrai il prossimo giro cosa faccio. Dov'è che è Sede? A zero, a zero. Quarto, dopo quanto vuoi entrerlo, non mi ricordo se ci vuoi andare. Non sei l'unico, eh. Il problema è che hai due neuroni anche te, si incrociano. Ascolta. Dopo l'acqua l'ha messo, no? Uno. Cioè, non è che lì o là, è uno, eh. Mi senti andato qui? Non l'ho messo. Fica neanche sto giro a zero niente, non fate niente. Mi senti andato al spot. Ah, ah. E' anche la giocola, un po' di rinchiare. Non fate niente, non fate niente. Sì, sai, sai. E' una roba di rinchiare. Sopra, cavolo.